Un happy hour in centro? Meglio ancora se al Museo Civico di Zoologia. E questa è infatti la nuova iniziativa promossa dal Comune che vede riunirsi scienziati e non per discutere delle problematiche ambientali. Ospiti dell'incontro, Anna Maria Cerioni, Enrico Gelosi e Giuseppe Lattanzi. Noi cerchiamo con questi appuntamenti di sviluppare non soltanto temi naturalistici, ma anche aprirsi ai temi di attualità. Abbiamo iniziato appunto con i cambiamenti climatici, con la risorsa acqua, per continuare poi con la biodiversità nella nostra città. Venite, venite, venite. Venite, venite.